Wahey kooj, benvenuti a voi, sono Andrani di Clontuno su Yo-Kai Watch 3 Dobbiamo andare dal signor Vitaliano Bella Vista a Campo Fiorito Per prendere appunto il rango superiore di Yo-Kai Watch, quasi sicuramente sarà per quello E per andare bisogna assolutamente prendere il treno, quindi ci vuole il passaggio giornaliero che noi fortunatamente abbiamo Quindi aspettiamo il treno per Valdoro Centrale, praticamente, no per San Fantastico, no io devo andare in giù signore, mi scusi? Guardi come sono su di giri, siamo arrivati però a Valdoro Centrale, dobbiamo invece andare Aspetta però, vuoi dirmi che non posso andare a Campo Fiorito senza prendere il treno? Eh no, non posso, non posso andarci Ah no, posso andarci invece, ma, mi dicevo di prendere il treno per un attimo, dico, non è che devo per forza prendere il treno, non mi sembra Eccola qua, Campo Fiorito Beh, con la pioggia non è proprio il massimo dello splendore, poi col tramonto è più bella in una assolata giornata Eccoci a Campo Fiorito, l'ora di italiano dovrebbe essere da queste parti Esattamente l'una, è praticamente qua sopra C'è un negozio di biciclette al quale non possiamo fare compere perché siamo poveri Anche se poi diventeremo più ricchi dei nostri genitori a forza di fare combattimenti, ma non importa Eccoci qua Ah, ce l'avete fatta, perché non mi fai dare un'occhiata al tuo yokai watch? Mmm, come pensavo, il tuo rango watch è basso Rango watch? Se aumenti il tuo rango watch riuscirei a vedere molti altri yokai Nuovi episodi, nuovi poteri Lascia commenti il tuo rango watch Davvero pufarlo, sarebbe geniale Certo che posso, ma prima avrei un piccolo incarico Un incarico? C'è qualcosa che non va con il padrone dell'ostello del viandante Cosa intende? Beh, speravo che potesse scoprirlo voi Se riuscirete a capire cosa gli succede, allora penserò al rango watch Luna, let's go! Andiamo allora da questo... Ostello del viandante Che a quanto pare non c'è proprietario, ma ha forse al suo interno? Eccolo qua Ah, sta dormi... E questo sarebbe il padrone dell'ostello? Ma, sta bene? Certo che sì, sta riuscendo come un trattore È ovvio che stai dormendo, scognigliata Se davvero sta dormendo, allora dovresti abbassare la voce Sai dove hai alzato la voce per prima? Eppure, tutto questo trambusto dovrebbe averlo svegliato Interessante, davvero molto interessante Interessante come uno yokai Devi sempre fare queste scenette E il colpevole è proprio qui, nei paraggi Allora, siamo alla nostra lente yokai Eccolo qui, va? È Blantapiro! In Giappone si chiama Haku Ed è che è un gioco di parole con neve La neve è bianca C'è uno yokai che si chiama Baku Lui ha la controparte di Baku Fate voi le associazioni Eh? Chi siete voi? Signore e signori il colpevole Questa è Blantapiro con neve che fa dormire sogni tranquilli Come si fa dormire sogni tranquilli? Non permetterò che... Un momento, ma che c'è di male? A me sembra una cosa gentile Ecco si sana gentile Faccio fare bei sogni alle persone Sogni tranquilli Ehm, scusaci per tutto questo Usapio non andiamo via Slow down Sta comunque creando problemi Ah, giusto Ehi, Blantapiro Non è che potresti smetterla di incantare padrone? Si sta solo riposando Lasciatemi fare il mio lavoro Parra più che le buone maniere non siano abbastanza Poverina Ma sto solo facendo il suo lavoro La yokai Eh, un lavoro che comunque deve purfare qualcuno, no? Mio Dio! Ma mi ha quasi distrutto Sobron! Ragazzi, attaccatela Gibes Dai Aiuto, ma è forte Recupera lentamente Lentamente? 17 a lentamente? Ma com'è mancata? Ma che combini? Ma quante roba... Oh, ma... Ma è fortissima Vai, infuoca il terreno Lama mangia fuoco Niente? Cedralino Meno male, eh ragazzi Quanto è lunga Assurdo È davvero incredibile quanto fosse difficile Blantapiro E siamo solo dall'inizio del gioco C'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va davvero Dovrei allenarmi di più Ma seriamente Anche perché non ho fatto alcun tipo di allenamento, quindi Eh? Dove sono? Devo aver dormito per 5 giorni Chissà quanti yokai sono passati per il mio ostello Che disdetta Sì? Vedi, so che non avevi cattive intenzioni Ma hai combinato un pasticcio Non intendevo farlo Volevo solo aiutare Capisco Magari un giorno potrei aiutare qualcuno Mi piacerebbe essere d'aiuto Ma nessuno me l'ha mai chiesto Allora lo faccio io Uniscita dalla nostra agenzia investigativa Farebbe i sogni al mio sogno È l'agenzia di essere un sogno per ora Non abbiamo un ufficio Nothing Agenzia investigativa Che bello Mi unisco con piacere Il piacere è mio Blantapiro Grazie Farò del mio meglio Nuovo yokai Per il nostro Per il nostro Per il nostro gruppo E per la nostra agenzia Praticamente lei ora Andrà a lavorare Per la nostra agenzia Penso che ci troverà anche lei il posto Che poi il posto è quello che abbiamo visto Quando siamo usciti dal terrore onirico E dove abbiamo incontrato il signor bella vista Ottimo Quindi ora in teoria dovremmo Essere a posto così no? Ecco Grazie per avermi svegliato Questo è per sdebitarmi Fancy death numero 5 Wow una copia di fancy death La ringrazio Nessun problema Molti yokai possono avere il mio ostello Passa anche tu ogni tanto Sarebbe fantastico Vedremo No non gioco per niente con Andrea Si so bene che se gioco ora Ci sarebbe a notte zombie Ma no Si so come funziona i timbri Non ti preoccupare Non è importante a dire il vero eh Cioè non più di tanto A meno che non vogliate proprio fare Il 100% del 100% Signor vitaliano buonasera di nuovo Abbiamo completato la sua missione Il padrone dell'ostello sta bene E' stata colpa mia lo stavo incantando Chiedo scusa Non preoccuparti L'importante è che tu abbia imparato la lezione Certo Bel lavoro ragazzi E avete aiutato anche Blantapiro Quindi come promesso Aumento il tuo rango watch Una cosa veloce però eh Lo sai più ogni tanto Si legge un po' di news Da yokai twitter Yotwitter Yoter Yokater Non lo so Il tuo yokai watch Ha raggiunto il rango D Ha raggiunto Ha raggiunto il rango D Quindi ora posso aprire Delle porte Che prima mi erano chiuse E troverò anche degli yokai più forti Beh Beh si 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 Ci voleva Grazie Grandioso Grazie signor bella vista Con questo faremo Investigazioni galattiche Investigazioni Esatto Vede Oh capisco Che impresa interessante A proposito di Investigazioni Ultimamente Ho sentito in giro Di uno strano fenomeno Legato a scintiglia Strano fenomeno? Esatto Pare che siano stati Avvistati alcuni personaggi Di cartoni animati Avvistati i cartoni animati? What? Eh? Davvero? È sicuro che non sia una persona In cosplay Scintiglia ne è piena Cosa? Play? Ma che? Comunque Mi chiedevo Se fosse legato Alla tua esperienza Nel terrore onirico Capisco Bene Accetteremo il suo incarico Ma prima sarebbe meglio Cercare informazioni in giro I'm on it Ci penso io Cercherò su Kynet Continua con Andrea Per raccogliere nuovi indizi Ah Devo per forza Continuare con Andrea? Ah Va bene Non ricordavo Di dover continuare Per forza col mio Ma va benissimo Mi sta più che bene Un attimino Le immagini che stanno per seguire Sono state registrate Con la webcam E il file di gioco Su un'unica traccia Quindi Se mi si sminchia Una parte di gioco O la webcam Ecco Questa rimarrà impressa Per tutta quanta la vita In quella maniera Quindi O rigiocavo la parte Cosa che non posso fare Dato che ho già salvato Oppure me la tengo così Anche perché durante la registrazione Non mi ha dato Alcun problema Guardavo spesso Monitor accanto Ma A quanto pare Durante Dopo L'esportazione Del file Mi dà L'immagine Così come è stata Effettivamente Processata Quindi Insomma In poche parole Ecco lo schifo A questo punto Raggiungiamo Il municipio Di Arachidia Dobbiamo andare a trovare Il nostro amico Wyatt Che ci aspetta lì Per qualche strano motivo No in realtà Che ci vuole Far vedere gli alieni Anche lui Anche se In realtà Lui vede gli yokai Grazie a un altro metodo Che però ci rivelerà Lui stesso Fra poco Anche con la bici Ragazzi Esplorare l'America È incredibilmente Lungo Aspetta un po' Ma io posso arrampicarmi Qui volendo Ah non posso Arrampicarmi Uffa Ah stavi con lui Wyatt Non mi ero accorto Pensavo che già Eri andato Bene bene Ci incontriamo Di nuovo Ed in un posto Così interessante O tu sempre In coppia Stati Siete amati Il moglie Per caso Che ci fanno Dei ragazzini Come voglio Il municipio Ehm Noi siamo venuti A vedere la campana Che coincidenza Siamo venuti qui Per lo stesso motivo Allora Volevamo assicurarci Che non fosse la campana A fare quello strano suono Ma è stato un buco Nell'acqua La campana È del tutto normale Ah Sally Se solo ti fissi Della tua immaginazione Oltre che Del tuo sapere Secondo le mie teorie Quella campana Nascondi comunque Dei segreti Certo Blattery Complierò a nasconderli Fino alla prossima volta Ci vediamo ragazzi Ehi aspetta Sally Ti dico Che quella campana Mi dispiace per lui Giovanna che li saluta Ora si che sono curioso Batteremo qui gli agenti E' lo stesso gioco Ehi Wyatt Aspetta Oh Questa parte Me la ricordo E pensare Che aveva detto Di andare insieme E poi ci abbandona Così Prima volta Ci ho messo un po' A capire quello Che dovevo fare Ma perché non leggevo Poco male Andiamo a controllare La campana Era scritto A chiare lettere Quello che dovevo fare Ma non Ero troppo contento Di andare avanti E quindi Non ho letto per niente Eh 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 Sento odore Delle battaglie Yokai Lo sento Dal sudore Delle tue mani Ma non sono sudate Eh? E questo chi è? Ma quanti Strambo E di ci sogni In questa città? Allora Voi tre Ve la sentite Di seguire La strada ufficiale? Non avete paura Voglio solo parlare Per ora Vi aspetto Nella biblioteca Lei è la figlia Di signor Regulon Parlare Se vuole solo parlare Perché se ne va A quanto pare Un momento Sbaglio O ha detto O ha detto voi tre È mai possibile Che anche lei Posta vedere Gli yokai? Mi ha incuriosito Andiamo alla biblioteca Ma per forza? Come Regulon Ah beh Ma Signor Regulon Miss Regulon È la figlia Lasciate che mi presenti Ufficialmente Mi chiamo Miss Regulon Per lei È tutto così ufficiale Problemi con ciò che è ufficiale? Puoi ufficialmente Terli per te Whisper Credo che posso sentirti Certo che posso Sono l'ufficiale Delle battaglie Yokai E mi pare di capire Che tu ne abbia fatte Di battaglie yokai Che ne dici Di provare Le battaglie ufficiali? No Battaglie ufficiali Come se le semplici Battaglie yokai Non fossero abbastanza ufficiali Bene Wyatt ci sta aspettando Ma come è entrato qui? Ci voglio la chiave Qualcosa mi dice C'è sicuramente Qualcosa di strano Ovvio Andrea andiamo Sì Eh La porta è chiusa a chiave Finalmente Vi ho trovato Dove vi avevate cacciati? Eh Veramente Noi stavamo cercando te Wyatt E tu dove eri andato? Siete voi quegli lenti Come il lumache Potevo mai aspettarvi? E qui che succede? Questa dovrebbe essere La porta che cerchiamo Ma è chiusa a chiave Lasciate fare a me Con un passepartout Cioè Volevo dire Il mio tesoro più prezioso La mia chiave segreta Che in realtà È un passepartout Quick Quik Entriamo Presto Ma che Come il mio È una chiave del genere Non ci pensare Allora Andrea Ora che la porta è aperta Vogliamo proseguire? Certo Con molto piacere Voto 10 Right Quella campana gigante È proprio sopra queste scale Andiamo allora Capisco Così questo È il soleo del municipio Eh La campana è più avanti Presto muoviamoci Ok Dunque Noi ora andiamo qui Ma guarda che dettagli Le ragnatele addirittura Che dettaglio Ma guarda Quanto sono belle Vediamo C'è qualcosa di strano? Non proprio Sembra tutto Normale? Non è ancora detto l'ultimo Dobbiamo solo guardare meglio Se lo dici tu Andrea Perché non proprio Cercare quello Yuki Watch Ed è qui Che rimasi Bloccato per Un buon quarto d'ora Perché dico Ma Cosa devo fare? Mi dice di controllare qui Ma non c'è nulla Pare non ci sia niente di strano Prendi in giro Ero convinto Che avremmo trovato qualcosa Quassù Perché? Io avverto C'è qualcosa di davvero strano In questa campana A proposito Wyatt C'è una cosa Che volevo chiederti Cosa? Dimmi pure Come mai riesci a vedere Whisper e Gibani? Sì Giusto Giusto Vorrei proprio saperlo Come fai a vederci Senza noi Yokai Watch? Ok Te lo dirò Certo che siete proprio Fissati con questa cosa Degli Yokai Se c'è qualcuno Di fissato quello Sei tu con gli alieni E su questo Dove ragione a Whisper È successo tutto È successo tutto la notte Prima che arrivaste in città Un coso strano e brillante È caduto dal cielo E si è schiantato qui vicino Coso? Forse intendi un meteorite? In città pensavamo tutti Che fosse caduto un meteorite Ma non era un meteorite Quello era un UFO Eh? Un UFO? Stai scherzando spero Dico sul serio Un UFO L'ho visto con i miei occhi Dopo essersi schiantato È tornato a fluttuare Ed è volato in cielo Non è quel che farebbe un meteorite No? Per questo vi dico Che era un UFO Beh Sembra proprio che lo sia Visto? E devo anche le prove Sono andato sul luogo dello schianto E l'ho trovato questo Che bella pietra Chi sia? Mi pietra UFO Grazie al suo strano potere Posso vedere voi alieni Eh? Ancora non mi credete? Non è che non ti crediamo È che È un po' difficile da credere Allora andiamo da Mr. Iason Vi spiegherà tutto lui Mr. Iason? Mr. Iason è quello Che ha fatto questo ciondolo Con la pietra UFO Giustisce il negozio Di rologe ad Anacardia Vi darà la prova Che non sto mentendo Vedrete Buono buono Anacardia orientale Quindi Il signor Iason Strano nome È lui Che ci farà aumentare Il rango dello yokai watch Finalmente È un personaggio Che serve a qualcosa Eccola qua Vediamo un po' Bellissima sta musichetta Ah Così questa è una cardia orientale Già Ha proprio quel fascino rustico Di altri tempi E nel caso di rologe Proprio laggiù Andiamo Dov'è? Laggiù? Cioè addirittura È una bisteccheria È una steakhouse Dov'è? Qua? Eccola qua Jewelry Quindi fa sia Gioielli Con orologi Wow Proprio un posto carino Comportati bene Questo è un negozio di classe Oiette Devi essere anche tu di classe Se conosci negozi del genere Ma che? Bene bene Che abbiamo qui? Ah 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 Ma che bella sorpresa Il signorino Wyatt Ha portato uno dei suoi amici Quindi? Ehi Non l'avevo voluto Di non chiamarmi più signorino La smetta Ah 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 Non potrei mai smettere Non vorrei perdermi Queste tue reazioni Ma come? Non mi prende in giro Ah giusto Mister Ison I racconti dell'UFO Eh Un attimo Se non ho sbaglio Il tuo amico All'ultima versione Della Yokei Watch Modello U Eh Conosce gli Yokei Watch Solo non so Ne puoi vedere Che ne cose d'orologi Mi sembra giusto Ah Come è un'altra agitazione Per l'orologio di Andrea Certo La lucina è tutto Ma la mia pietra UFO È migliore Ma vedo che Il tuo Rango Watch è ancora basso Rango Watch? Che cos'è? Te l'ho detto prima Che è un orologio Che mi permette di vedere Gli Yokei Se non ti spiace Potremmo entrare il tuo Rango Watch? Davvero può farlo? Ma mi sarebbe davvero d'aiuto? Certo Una cosa di nulla Che fortuna Andrea Spero che non ti spiaccia Ricambiare il favore Sono davvero impegnato Con il lavoro ora Andresti a comprare Delle cose per me? Certo Lasci fare a me Ti ringrazio C'è un supermercato Chiamato Spettro Market Volebbero qui vicino Vorrei che tu E il signorino Wyatt Andassi a prendere Delle cose per me Io? Cosa? Devo andare anch'io? Ho detto qualcosa Che non va? E va bene Vado anch'io Questi ragazzi L'oggi Non c'hanno voglia Di fare nulla Spaticati Certo però Può riproventare Un Rango Watch Andare a far spesa Ehi Wyatt Dove è questo Spettro Market? Proprio qui accanto Un isolato A est Da qui Prima di andare Perché non facciamo un giro? Immagino tu non abbiamo visto La mascotte Dello Spettro Market Mascotte? Direi di no Si trova nel parcheggio Basta continuare Ad andare verso est E lo incontreremo di sicuro Eccolo qua Prendiamo la biciclotta E andiamo Pedala 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 Vediamo un po' Sta mascotte Va dov'è? Ah è qui È lui? Ma come fa a essere già qua Wyatt? Oh Ma l'abbiamo lasciato Che era dentro Ma sta già qui Wyatt E questa è la mascotte Di cui parlavi? Esatto Ora perché Perché Spettro Market? Questa è la mascotte Dello Spettro Market Dello Ian Coniglio Ian Coniglio Da queste parti Una celebrità Non si può dire Che sia poi così carino Almeno è alto Giusto? Magari è una questione Di mentalità Perché? Presto anche la vostra mentalità Si aprirà un uomo Ne sono certo Proprio che sia Amico Andremo tutti Avere una mentalità aperta Pace Fratello E adesso Questo chi è? Oh sorry amico Non volevo spaventarvi così Mi stavo solo lasciando Trasportare Delle vibrazioni Dello Ian Coniglio Con una cannetta Visto Lui si che se ne intende La fortuna Mi sorride Se mi sono imbattuto In voi Io sono il padrone Di un ostello Si chiama Ostello del Viandante È dal proprio nord Di qui Potete venire A dormirci Quando volete Peace out Ci vediamo Lo stello del Viandante Ho sentito bene Bene Ora che avete visto Lo Ian Coniglio Andiamo a fare compere Per fortuna Non devo andare Anche da lui O andiamo Al mostro market Citazione Che dovreste sapere Simpson A frattempo Qui c'è uno Yokaiyo Eccolo qua Non ci credo Un portale bizzarro Eh no Ci voglio andare Ora Primo portale Bizzarro Che incontriamo Andiamo subitissimo Poi magari La prossima volta Vi faccio vedere Anche dove si trova Paola Portalia Oh Cosa sta succedendo Non lo so Cos'è questa Visuale Che succede Niente Riconosco più Nia Nia Forse hai fame Nia Se è così Mangiamo Io voglio una barretta Di cioccolato Nia E tu Chi sei Che ti sei dimenticata Dimenticata No Katie Ti sei dimenticata Di me Nia Nia Che ti prende Perso la memoria Nia Siamo amici Da quando ci siamo Ci siamo incontrati A quel d'incrocio Nia Allora O sono Katie Però non posso andare Più di così Sì O sono Katie Probabilmente Che c'è Stai uscendo Lascia che talentuoso Valletto Whisper Ti accompagni Non è la tua solita reazione C'è qualcosa che non va E non era preoccupata Io chi sono Di che stai parlando Hai dimenticato la tua stanza Hai sbattuto la testa O forse il troppo studio Ti ha spossata Che succede Sei sempre così calma E composta Credi che ci sia Lo zampino di uno yokai Sto scherzando Non esiste uno yokai Che ti fa dimenticare Chi sei Giusto La stanza di Emi Era così carina Oggi non sembri Te stessa Cosa ti ricordi Ti ricordi dove ti trovi Chi sono i tuoi amici Chi dovevi incontrare Io sono Katie Sì Per forza Al femminile Mi chiamavano E poi si vede Che non era Stanza di Nathan Insomma Voglio dire Quindi ci ho azzeccato Sperate portale 2 E' la prima volta Che entro In un portale Bizzarro In questo gioco In yokai watch 3 E devo ammettere Che è davvero bello Oh mio dio Dove sono uscito Ah Qui qua vicino Aspetta No 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 Aspetta Aspetta Sembra che ci sia scritto Sukiyaki Non Sukiyaki All'ogni All'ogni modo Sì Quello è un negozio Di Sukiyaki Questa versione Di gioco E' Yuki Watch Sukiyaki Comunque sia Attenzione Qui c'è un oggetto Uno strument Ok andiamo allora A fare Ancora Sti due Ehi Andrea Dammi la mano con questi Non vogliono lasciarmi in pace Salve ragazzino Che piacere vederti Vedi Volevo mostrare Una cataccia Odolo del tuo amico Un piccolo sguardo A quella pietra Nient'altro Ho detto di no Ve l'ho detto prima Ve l'ho ripeto adesso N O Su via Non fare Così Darò solo Una rapida occhiata Prova ad avvicinarti Ti sfido Poi vediamo Che ne pensa la polizia Loro in teoria Sarebbero FBI Quindi La polizia gli fa un baffo Blatter Vuoi davvero Metterti a litigare Con un ragazzino Sei peggiore Eh Che stai dicendo Non è così Penso lo solito Di aver visto Una pietra del genere Negli Wifi E dirlo un pochino Più forte Aspetta Ora ricordo Riguardava il caso Dell'UFO Blatter Lascia perdere Non è possibile Che un ragazzino Abbia qualcosa Di così importante Oh Sally Sei privato di immaginazione Come al solito Scusateci Mi occuperò io Di questo chiacchierone Ehi Stavo solo spiegando Blatter Dobbiamo andare Dobbiamo inseminare Altri luoghi Sally Almeno Aspettami Oh Ci è mancato poco Eh Credevo che quello Stramboy Avrebbe rubato La mia pietra UFO Bene Dobbiamo fare ancora compere Sì Dobbiamo Comperare Comperare Le compere Perché compere Vabbè Dobbiamo comprare Un sacco di cose Ma ti darò una mano Ok Tu cerca una pannocchia Delle cozze E degli arachidi Caramellate Chiaro E non dimenticare I soldi che c'era Da Mr. Aison Ok Me li rubo E scappo via In un altro paese Quando avrei preso tutto Vai alla cassa Io sono qui Nel caso L'imenticassi Cosa devi comprare Pannocchie Cozze E Mais Caramella Arachidi Prova a correre Col carrello Ci servirà Più tardi Whee Allora Vediamo un po' No La mascotte È quanto creepy Quindi Cosa devo comprare No 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 Pannocchie Che sono qui Pannocchie Perfetto Ora Andiamo Dalle cozze Che sono nel reparto Piesce Si Cozze E poi Delle Arachidi Caramellate Vediamo un po' Dove sono Qui No Caramelli Arcobaleno No Anachidi Caramellate Si Perfetto Abbiamo preso Tutto quante Ora andiamo A pagare La spesa Salve Salve Mi scusasse Sì Ciao Mettiamo il carrello A posto Perché siamo Gente Educata E civile Perfetto Ho comprato Tutto Uh è finito Non dimentichi niente Dovrebbe essere Tutto Giusto Perfetto Perfetto Direi che Non abbiamo Dimenticato Nulla Torniamo A negozi Orologi No Vai Vedete Come fare La spesa Facile Facile Signora Aison E forse Qualcosina In più No Non è vero Grazie ragazzi Sei restati Di grande aiuto Ora vediamo Di aumentare Il tuo rango Watch La ringrazio Mister Aison Mi domando Se prendendo Roba diversa Te l'accetti Comunque Wyatt Oppure no Oppure Prendendo Roba in più Chi sa Però che In un carrello Ci vadano Massimo Cinque articoli È un po Esagerata La cosa Esagerata Nel senso Di riduttiva Ha raggiunto Il rango Di Ecco a te Su provalo Subito Grazie Con questo potenziamento Riusciremo a trovare Ancora più Yokai Bene Adesso possiamo Finalmente Parlare Degli UFO Scusami Mi è venuta fame Beh Quasi ora diciamo Tra poco farà buio Tornate a casa Dei vostri genitori Parleremo Degli UFO Un'altra volta Oh Impossibile Mister Aison Li ho portati qui Proprio per farli Sentire la tua stara Sugli UFO So via signorina Wyatt Parleremo la prossima volta Se non c'è altra scelta Ci vediamo qui domani Non dimenticarlo Si Ok Ma prima c'è una cosa importante da fare Concludere l'episodio Bene Adesso ci sarebbe la notte zombie Che però faccio nel prossimo episodio Cujo Perché questo qui oramai Si è protratto un po' per le lunghe Quindi Nel prossimo episodio Notte zombie E Probabilmente Se tutto va come va Se tutto va come deve andare C'è anche il boss di Nathan Quindi A meno che Se prima di fare il boss di Nathan Facciamo il boss di Luna Sarebbe anche meglio Allora in ogni modo Cujo Questo video termina qui Ed io come sempre Vi ringrazio per averlo seguito E vi ricordo Che in descrizione Trovate i link per Twitter e Instagram Se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Bye 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 Grazie a tutti.